Buongiorno amici del canale! Rosalina è passata di qua e vuole, come al solito, quadrare con mamma. Stendiamo lo sverniciatore biodegradabile Magic Paint su tutto il piano del mobile. Mi raccomando, non troppo sottile e in modo omogeneo. Con una spatola levo l'eccesso e ora con dell'alcol e una paglietta d'acciaio tolgo tutti i residui. Metto una toppa voodoo band per coprire vecchi urti del mobile. La fermo con della colla, la testo e ora con due chiudini. Elimino gli eccessi di colla e voilà! Col pennello architetto, ottimo per questi fregi rientranti, stendo una base, il clear sand. Emma invece procede con la struttura con il nostro fantastico Lucky Forest. Picchietto leggermente con una spugna creando la base e ora con tonalità differenti creo il foliage che abbiamo imparato dallo studio con Alessandreria. Un velo di cera e voilà, il gioco è fatto! Scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto. Al prossimo restyling! Ciao! Ciao!